Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Colpo di testa estivo per Giulia Salemi. La ex Gieffina ha detto addio ai capelli lunghi mandando invisibilio i fan con un trendy long bob. L'estate, oltre al caldo, le vacanze, il relax, la spensieratezza, il divertimento e nuovi amori, porta con sé anche una ventata di freschezza e di libertà. Infatti, ci liberiamo dei maglioni, dei cappotti e di tutti gli indumenti ingombranti riappropriandoci dei nostri corpi che così possiamo esibire con i loro pregi e difetti. Talune Celebrities, invece, non si limitano a dare una rinfrescata al guardaroba ma si, liberano, anche dell'air look che ha incorniciato i loro volti, noti, durante il lungo inverno in favore di un taglio più fresco e più adatto alla stagione calda, trendy, certo, ma anche comodo. Arisa pochi giorni fa ha assicurato che per tutta l'estate la vedremo coi capelli al naturale, cioè cortissimi. La cantante lucana è una fan delle extension extra long ma ha deciso di rinunciarci per tutta l'estate per dare un po' di tregua alla sua chioma, in fondo, è estate anche per i suoi capelli. Anche Kim Kardashian ha nuovamente stravolto la sua immagine. Dopo essere passata dal nero al biondo platino, ha dato un taglio netto alla sua criniera lasciando di stucco i fan con uno caschetto molto fashion. Di recente si è unita alle colleghe anche Giulia Salemi, la dolce metà di Pierpaolo Pretelli. Il Bob è il must di stagione. Negli anni Giulia Salemi è sempre rimasta fedele alla sua lunga chioma corvina che ama sfoggiare sia liscia che mossa, con o senza frangetta, ma che non ha mai tinta né tanto meno accorciato, almeno fino ad ora, la ex GFina ha mandato in estasi i fan mostrandosi con un long bob leggermente più lungo davanti e con riga centrale. Tuttavia, non è chiaro se si tratti di una parrucca o di un radicale cambio dell'air look. Nella foto in questione, infatti, postata sul suo profilo Instagram, Giulia Salemi, immortalata, a quanto sembra, durante uno shooting fotografico, indossa un body firmato Mugler. Strane voglie e dove trovarle, si legge nella didascalia a corredo dello scatto che ha incontrato il gradimento dei suoi fan per il modo in cui il long bob le incornicia il viso regalando profondità e intensità al suo sguardo. Del resto, il Bob è il taglio perfetto per l'estate, non a caso ogni anno conquista tantissime donne proprio perché sta davvero bene a tutte le rappresentanti del gentil sesso. È trendy, versatile ma soprattutto pratico e comodo. Necessita relativamente di poco cura, è naturale e anche in versione disordinata è sempre alla moda. Insomma, il Bob non passa mai di moda. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.